ecco 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 la tocca e vai l'ennesima tinca di stamattina il tempo non promette nulla di buono guarda che con cattiveria spiega la nostra tbr lake adesso la facciamo vedere e poi la lasciamo subito amo senza ardiglione ti slama subito e non fa male al pesce guarda che bella tinca guarda bellissima le abbiamo prese più grosse oggi è stamattina però questa è anche bella eccola eccola ecco la partenza dovrebbe essere un'altra tinca spettacolo spettacolo poi con quelle con queste cane con le tbr sicuramente aumenta il divertimento che guardate come a seconda le testate della tinca ecco la facciamo vedere la slamiamo potete vedere nonostante il combattimento la pastura è lì ed ecco questa bellissima tinca adesso la rilasciamo subito e la facciamo tornare nel suo ambiente naturale questi pesci stupendi che vanno preservati perché pesci che non si trovano dappertutto qui c'è una popolazione veramente abbondante di questi pesci veramente tanti adesso li vediamo guardate che spettacolo stavamo per preparare la seconda canna non ci ha dato tempo è già partito un bel pesce da come è partito deve essere una bella tinca vediamo siamo venuti per l'olo una partenza l'ha piegata la nostra canna la nostra tbr 11 piedi adesso vediamo riusciamo a portare l'aguadino e vai ecco qua il nostro amo senza al biglione della serie 861 ed ecco questa bellissima tinca primo pesce della giornata potrebbe essere quello che ci fa fingere la sfida con Damiano che è laggiù che non ci sente forse quindi possiamo dire quello che ci pare senza saperlo ha già perso la sfida però vedremo questo è sicuramente uno dei pesci più belli d'acqua dolce veramente bello guardate che bella ha degli occhi spettacolari arancioni bellissimo pesce combattivo piega nei nostri tbr l'abbiamo vista piegare però sono riuscito comunque a concludere questo combattimento adesso la rilasciamo e torniamo in pesca perché oggi presumo che ci daranno da fare vieni a rilasciarla come sempre assicurarsi che sia in forma eccola qui si è già ripresa e poi la rilasciamo andare via così